Brancot, l'occasione tra l'altro per conoscervi è il lavoro che state facendo per la ristrutturazione della Villa Reale di Monza, un lavoro che vale la pena di sottolineare perché tra l'altro è la prima volta che in Italia una ristrutturazione porta tanta novità, perché questa villa si apre a eventi, produzioni e voi curate tutto quello che è la campagna. Raccontacela un po'. Allora praticamente Villa Reale di Monza diventerà il monumento più importante d'Italia, anche perché in Italia abbiamo due regge, quella di Caserta e quella di Monza ed è stato fatto questo progetto da parte del mio cliente che durerà 20 anni, un progetto che si chiama Project Financing e sarà gestita interamente a livello privato con un affiancamento di un consorzio di Monza che curerà la parte burocratica e civile. Brancot per la prima volta ha fatto una pubblicità diversa per un monumento italiano perché sono stati saltati i soliti crismi per la pubblicità di un museo, di un monumento. Quindi siamo andati direttamente a pubblicizzare l'evento Villa Reale e quindi usciremo in radio, in affissione e sul web. Ecco, hai nominato l'affissione perché intanto parliamo un po' di voi, entriamo nel merito. Siete nati sette anni fa, avete lavorato sotto traccia. Sotto traccia è bello, il nostro payoff è across the line proprio perché volevamo arrivare al punto di superare la linea e oggi dopo sette anni di attività siamo arrivati a quel momento. Dicevo anche sotto traccia perché non vi siete fatti sentire dalla stampa o perlomeno da noi. No, ci siamo trovati i nostri clienti, siamo andati avanti per anni con i nostri clienti. La struttura, sempre grazie ai nostri clienti, si è ingrandita e quindi è arrivato il momento di bussare a qualche porta più grande. Abbiamo lavorato per anni sulle piccole e medie imprese italiane, che è la struttura economica del nostro paese e abbiamo capito che siamo bravi anche con i clienti più grandi. Anche perché penso che stabilito un modello di lavoro c'è poca differenza poi. Sì, è quello, quando sei capace di fare 10 riesci a fare 100. Tornando poi al discorso della fissione che mi stuzzicava la voglia di parlare di voi, perché voi qui siete anche concessionaria di grandi spazi. Qui no, qui siamo concessionari di corna. Noi siamo concessionari da tre anni, sempre grazie a una ristrutturazione. Quando è nata questa operazione per il Castello Sforzesco di Milano nel 2012, ci hanno chiesto di gestire tutta la parte di affissione sul Castello Sforzesco. E quindi abbiamo aperto una divisione outdoor che dal 2012 va avanti. Prendiamo due o tre maxi affissioni importanti a Milano e le gestiamo in autonomia. Non solo concessionarie, ma bensì ci siamo occupati fin dall'anno di fondazione di identificazione esterna. Vale a dire tutta quella parte di cui il marketing non se ne vuole occupare, che sono dalle insegne esterne ai totem, alla segnaletica di direzione, perché abbiamo visto che era una nicchia lasciata dalle agenzie e quindi per dare il servizio completo ai nostri clienti abbiamo sviluppato un discreto know-how. Questo non solo dal punto di vista di produzione, ma anche dal mero punto di vista tecnico, perché abbiamo sempre utilizzato LED ed altri sistemi di identificazione all'avanguardia. Tra i nostri clienti su questo settore spiccano Ibis Hotel, Ibis Style Hotel, la catena nuova, quelli verdi, tanto per intenderci, Fid Italia, per i quali abbiamo curato tutta la parte di identificazione esterna nelle 300 filiali in Italia, Acno e poi tanti altri ancora. Tornando poi invece alla trasversalità, cioè alla capacità di creare un posizionamento, se vogliamo, diverso. In cosa voi siete differenti dagli altri? Qual è la vostra prerogativa caratterizzante? Allora, siamo Snelli e quindi la struttura Snell garantisce velocità di risposta e garantisce anche la suddivisione dei compiti su poche risorse. E questo è sicuramente un punto di forza perché riusciamo a rispondere velocemente alle necessità del cliente e quindi anche ad andare su vari settori. E rispetto al prezzo? Come si riesce a competere in un mercato che è... Il mercato italiano è un mercato a due grandi difetti. È sovraffollato, ci sono spesso scarse competenze, questo è un difetto. E il secondo difetto è il sistema dei pagamenti. Grazie alla partecipazione di Norfin, che è la società finanziaria di un grande gruppo chimico italiano, siamo strutturati anche per sopperire a questo flusso di pagamenti. Poi la nostra prerogativa è essere molto competitivi sul mercato. Quindi questa struttura ci consente di mantenere i costi molto bassi con un discreto risparmio per il cliente. Quindi non solo i costi di produzione, ma anche i costi di gestione delle campagne. E guardando al futuro, cosa vuole lei nella vostra pentola? Avete già dei progetti nuovi in essere? Cosa state lavorando? Stiamo lavorando a un progetto sul lancio di una nuova bevanda completamente naturale. Non posso fare il nome, però avvia ragioni. E un altro su una nuova divisione di eventi. Gare? Partecipate, le fate? Qual è la vostra preghiera? Allora, non abbiamo mai partecipato a una gara, se non da piccolo su una bicicletta. Io non ho mai fatto una gara in vita mia e forse è giunto il momento di farle, perché abbiamo l'humus creativo adatto e quindi è giunto il momento per noi di fare qualche gara. Quindi chi ha orecchio per intendere, intenda. Esatto.